rispetto alla democrazia diretta. Guardi, io ho proposto 5 persone, di mia fiducia, di stima, ma ce ne sono decine nel movimento, e poi abbiamo messo ai voti, siete d'accordo sì o no? Hanno votato in 36.000, 37.000 persone, hanno detto siamo d'accordo. Ma tra noi, non credo che siano emerse delle invidie, perché ripeto, è una questione transitoria. 5, 10, 15, 20, 40, è l'inizio di qualcosa, bisogna iniziare con qualcosa. L'inizio è quello di delegare un po' di responsabilità, perché il movimento è diventato una roba gigantesca, quindi tenere... Allora, loro non hanno i rapporti con me, oltre che con me, ce l'hanno sul territorio, andranno dai sindaci nelle città, andranno a trovare gli attivisti nei meet-up, avranno questo, e io non posso più farlo, l'ho fatto per anni, non ho più la forza di prendere di nuovo un camper per girarmi l'Italia, per gli attivi, lo faranno loro, e loro sono fuori, perché il 13 saranno nei banchetti a raccogliere le firme.